Hayashi Grazie Questo è il film di Morazz Ghani seguito da Samuel Medolago Ecco che passa in testa Samuel Medolago Perfetti Cavallo e Brembano Ghani solitaria di Samuel Medolago Allenato da Giorgio Rondelli E' peccato che non c'è una lepra a tirare qualche metro in più Ho fatto quasi metà gara in solitaria a Samuel Grazie 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 Grazie